La seguente testimonianza è tratta dal libro di Fra Gianluigi Pasquale intitolato 365 giorni con Padre Pio alle pagine 338 e 339. L'autore del libro ci riporta un'epistola scritta da Padre Pio in data 25 dicembre del 1918 ad Antonietta Vona, epistola raccolta nell'epistolare numero 3 alla pagina 881 ma ecco cosa scrive Padre Pio. Gesù bambino regni sempre sul tuo cuore e stabilisca e rassodi sempre più il suo regno dentro di te. Questi ed altri voti ancora sono stati i miei presenti che ho fatto al bambino di Betlemme in questi giorni per te. Nostro Signore ti ama figliola mia e ti ama teneramente e se lì non ti fa sentire sempre la dolcezza di questo suo amore lo fa per renderti più umile ed abbietta agli occhi tuoi. Non lasciare però per questo di ricorrere alla sua santa benignità con ogni confidenza, particolarmente in tempo nel quale ce lo rappresentiamo come lì era picciolo bambino di Betlemme. Perché figliola mia? A che fine piglia lì questa dolce ed amabile condizione di bambino se non per provocarci ad amarlo confidentemente ed a confidarci amorosamente a lui? Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!